Ciao ragazze, come vedete dal titolo questo è un video di comunicazione interna. Prima di tutto volevo spiegarvi perché andano a qualità un po' scadente tra le regolette dei miei video. Molto semplicemente sono obbligata a registrarli, editarli e pubblicarli con il cellulare e l'editor che utilizzo non mi consente di fare video più lunghi di 10 minuti e 10 secondi, il che diventa fastidioso quando devo fare un video un po' più lungo del solito, come l'ultimo tutorial che ho fatto sulla stagione di Natale, che sono stata costretta a dividere in tre parti. Quindi abbiate un attimino di pazienza, se riesco incrociamo le dita, per Natale ho intenzione di regalarmi una telecamera. Poi, allora ho diverse cose importanti da dirvi, prima di tutto mi riesce difficile organizzare dei giveaway oppure dei concorsi, ma ci tenevo a fare un regalino per Natale. questo regalino sarà un tutorial a vostra scelta, quindi potrà essere un trucco, un anel art, delle oggettistiche al film oppure un bijou, insomma quello che vedete sul mio canale, vero è che è da un po' che non faccio un anel art. Quindi a vostra scelta potete darmi giusto un argomento, quindi giusto l'idea, oppure delle mie guida. Per l'idea intendo, per esempio, fammi una anel art incentrata sul mare e mi lasciate carta bianca. Per le mie guida intendo, per esempio, voglio che tu mi crei un orsocchiotto in fimo, vestito da bambina, per esempio, con un truccio rosa in bocca e un fiore giallo in testa, per esempio. Quindi, allora, come sceglierò il tutorial che andrò a realizzare? Molto semplicemente, bisogna vedere quante ragazze mi rispondono, se ci sono diverse richieste guarderò se i materiali a mia disposizione mi permettono di fare il video e in tal caso farò una selezione con il sito random.org. Se non ci sono abbastanza richieste cercherò di soddisfare tutti, quindi a voi di partecipare e potete farlo con un commento a questo video. Poi ho una notizia stupenda da darvi. Allora, non so quando ancora, non so come, non so perché, sì, perché lo so, farò una collaborazione con Sweet Fashion Creation, che è una ragazza che qualche tempo fa ha organizzato un giveaway, al quale ho partecipato e con molta fortuna sono riuscita a vincere. E da quel momento abbiamo scambiato diversi messaggi e quindi abbiamo deciso di fare questa collaborazione. Allora, siamo un po' prese tutte e due, è un periodo un po' particolare, lei per via dalla scuola e io per via del lavoro, poi ci saranno le feste, quindi ci saranno a vedere. Non so ancora su cosa lo faremo e come ci organizzeremo, ma vi annuncerò tutto ciò quando la cosa sarà un po' più delineata. Allora, il cellulare non mi permette di mettermi sulla mia facciozza il link alla sua pagina, quindi alla fine di questo video vi metterò l'immagine con il suo logo e sotto in commento vi metterò il link alla sua pagina. Questo è tutto, vi mando un bacio grosso, grosso, grosso e spero che partecipiate in tante al regalo di Natale. Ciao! Ciao!